L'Arta emana e pubblica i dati ufficiali delle analisi fatte su quei campionamenti fatti in quei giorni e in quei punti indicati precedentemente dal Ministero dell'Ambiente, della Salute e dalla Regione. È chiaro che le analisi non sono mai tutte uguali, le stesse analisi del sangue che ognuno di noi fa nei laboratori clinici se uno va tutti i giorni non è che esce sempre lo stesso risultato. Quella delle acque risente di vari fattori climatici, la pioggia, i fiumi, i depuratori, risente una serie di fattori che quindi variano da giorno a giorno. Le corrende marine che spostano le acque dolce e le acque salate si mischiano di più in caso di temporale o di mare mosso. È chiaro che le analisi fatte con un mare dormiente danno risultati e quelle fatte con un mare mosso ne danno un'altra perché matrici inguinanti al mare arrivano dai fiumi e quindi vengono a galla. Chi si meraviglia dell'alternarsi di risultati un giorno buoni e un giorno non buoni evidentemente non conosce né ha intenzione di sapere né vuole sentire le ragioni per cui i dati variano da giorno a giorno. Gli ultimi rilievi fatti sono peggiorati perché sono stati fatti analisi a ridosso di un temporale. Purtroppo non c'è. C'è una regola che dice che l'analisi di campionamento non bisogna farlo. Quando è impossibile eseguirli perché con un mare mosso con un temporale in corsa però entro le 48 ore successive bisogna fare il campionamento ma è ovvio che quel mare risente del movimento del giorno precedente. Sarà comunque un'estate con alcuni divieti a Pescara? Ormai ci sarà poco da fare? Sì, ci sono dei punti critici da sempre dove i risultati sono ballerini ma che la gente sa, i balneatori sanno, dei nudi che criticano i risultati che è l'arta pubblica. L'arta è quello che misura la febbre del mare, in questo caso dell'acqua. Poi la cura, l'allianza e la cura spetta da altri enti, comune, province, regione che non nell'altra, che ripete, misura la febbre facendo l'analisi dei campioni di acqua prelevati.